Ciao e bentrovati di nuovo su Macraris. In questo video tutorial Power Apps parliamo delle variabili. Sappiamo che le variabili permettono di gestire elementi e di poterli richiamare comodamente. In Power Apps abbiamo tre tipi di variabili. Abbiamo la prima categoria che sono le variabili globali che vengono utilizzati con set e li possiamo richiamare da ovunque ci troviamo all'interno della nostra app. Abbiamo le variabili contestuali, quelle che vengono definite con update contest, quelle sono locali a una schermata e abbiamo le raccolte, le raccolte che vengono sostanzialmente utilizzate per creare una tabella locale per salvare dei dati e sono utili anche quando vogliamo implementare le funzionalità di offline all'interno della nostra app. Se sei qui per la prima volta sono Aristide Lappa e qui su Macraris parliamo di automazione e digitalizzazione dei processi di lavoro così puoi fuggire dai lavori ripetitivi e dedicarti a quello che ha più importanza per te. Se poi vorrai seguire delle lezioni in modo strutturato con un accompagnamento ti invito a registrarti sulla nostra nuova piattaforma macraris.thinkific.com a questo indirizzo dove abbiamo tante lezioni strutturate, gratuite e a pagamento su Power Apps, Power Automate e tante altre tecnologie che ti potranno essere utili. Ora andiamo a vedere l'argomento di questo video. Vogliamo vedere come utilizzare le variabili per l'inserimento delle ore e minuti all'interno della nostra app. Partiamo da zero. Sappiamo che quando generiamo la nostra app automaticamente e è presente un campo data quello che ci genera Power Apps è sostanzialmente questo controllo. Il controllo che qui abbiamo in combinazione alla nostra data è l'ora e minuti e per questo Power Apps utilizza l'elenco a discesa, il drop down che troviamo qui quando andiamo a inserisci Input, abbiamo qui elenco a discesa. L'unico inconveniente di questo controllo a parte il fatto che va usato con elenchi brevi è che non possiamo andare a fare una ricerca. Quindi tutte le volte che dobbiamo utilizzarlo dobbiamo andare a fare questo scorrimento. In alternativa a questo, possiamo utilizzare la casella combinata e la casella combinata ci permette di poter cercare degli elementi e possiamo avere oltre 500. Un'altra cosa che è utile sapere è che se mi interessa un controllo che è stato generato da un'app la posso copiare all'interno di una nuova app. E per fare questo, qui ho un'app aperta per la nostra demo vado in questa app che è stata generata e mi vado semplicemente a copiare i controlli che mi interessano i controlli sono questi seleziono il primo, maiuscola premuto, clicco di nuovo clicco su separatore e clicco su Minute Value CTRL-C o CMD-C sono sul Mac per copiare vado in corrispondenza della mia app clicco qui dentro CMD-V, CTRL-V per incolare stranamente non me lo posiziona qui in mezzo ma qui all'angolo per cui potrà essere un po' un problema andare a risistemare quindi in questo caso vado semplicemente a selezionare il controllo AO Value e qui devo ingrandire questo elemento una volta che ho ingrandito mi posiziono qui e quando mi appare questa icona che mi mostra che le frecce, quattro frecce direzionali, se le possiamo chiamare così le sposto qui in mezzo una volta che ho spostato qui mi posiziono qui e trascino in questo modo ok? poi darò la dimensione che mi interessa qui vediamo che ci sono degli errori questi errori vengono generati perché abbiamo copiato questi controlli da un'app dove facevano riferimento a un modulo essendo all'interno di questo modulo ci sono delle funzionalità che fanno riferimento a questo modulo tra virgolette ti invito se vuoi conoscere le dinamiche del funzionamento del modulo andare a vedere il nostro webinar e anche a seguire il nostro corso strutturato di come costruire una libreria con Power Apps dove entriamo nel dettaglio per vedere il funzionamento intrinseco dei moduli in Power Apps ritorniamo alla nostra app sostanzialmente qui dobbiamo andare solo a togliere tutti questi errori che ci vengono segnalati andiamo in corrispondenza di ognuno di loro qui se vogliamo il default possiamo lasciarlo quindi a questo punto togliamo questo e lasciamo il default zero e continuiamo a cliccare su questo segno di errore modifica nella barra della formula così ci porterà ovunque ci sono degli errori quando abbiamo terminato non ci appare più nessuna segnalazione di errori in questo modo anche qui andiamo a togliere questo e lasciamo il default questo clicchiamo di nuovo qui parent display name togliamo e qui andiamo a fare in questo modo così abbiamo dei controlli che possiamo utilizzare per l'inserimento delle ore poi comodamente dobbiamo andare a riferirli all'interno delle nostre formule di salvataggio se utilizziamo ad esempio la patch e questo potremmo fare un video su questo molto più dettagliato che verrà pubblicato all'interno della nostra piattaforma thinkfic.com ora che abbiamo questo se vogliamo passare alla casella combinata magari ci serviva solo prendere gli elementi qui andiamo a selezionare item items e vediamo che gli elementi qui sono stati inseriti in questo modo più che andare e reinserirli manualmente nel caso in cui vogliamo invece degli elenchi a discesa utilizzare la casella combinata andiamo a copiare tutto questo inseriamo una casella combinata input casella combinata e in corrispondenza della casella combinata che posiziono qui andiamo ad inserire items quello esattamente che abbiamo copiato poi se non vogliamo 00 come partenza delle nostre ore possiamo andare a togliere questo x e andiamo a metterlo punto virgola qui e inseriamo qui 24 qui abbiamo un errore qui togliamo questo punto virgola e qui siamo a posto se andiamo in anteprima vediamo che in corrispondenza di questo elenco combinato possiamo cercare quindi se inseriamo 12 vediamo 12 oppure 2 vediamo solo gli elementi chi hanno 2 e questo può essere comodo a seconda della dinamica che vogliamo ottenere nella gestione delle nostre app l'ultimo elemento che vediamo qui è come andare a personalizzare l'inserimento delle ore in corrispondenza di un controllo di testo andiamo quindi ad inserire un input di testo questo lo chiamiamo txt ore e in corrispondenza di questo input di testo andiamo ad inserire una icona inserisci icone prendiamo una qualsiasi che posizioniamo qui andiamo qui a cambiarla aggiungi e qui cerchiamo alto abbiamo navigazione in alto copiamo questo controllo e incoliamo non ha preso ok perfetto la posizioniamo qui in basso andiamo di nuovo qui icona e cerchiamo basso e inseriamo in basso noi vogliamo dare la possibilità all'utente di poter inserire dinamicamente il numero qui e utilizzare questo eventualmente per salire oppure scendere anche qui avremo bisogno di un refresh quindi copiamo questo e mettiamo qui in corrispondenza del input di testo icona qui nel riquadro a destra andiamo e cerchiamo aggiorna ricarica piuttosto e questa ricarica farà semplicemente il lavoro di andare a resettare questo al suo default iniziamo a mettere on select di evento e mettiamo qui che questo sarà reset txt ore ok ora andiamo in corrispondenza di questo e vediamo come utilizzare le variabili per andare a gestire gli elementi che vengono inseriti all'interno di questo campo inseriamo quindi la variabile globale la variabile globale può essere richiamata da qualsiasi parte della nostra app e per inserire una variabile globale iniziamo con set la inizializziamo con set tabulazione diamo il nome alla nostra variabile come vogliamo preferisco sempre mettere il prefisso var qualcosa di indicativo var incr punto virgola e qui dobbiamo inserire il valore e qui diciamo che il valore sarà uguale a quello che abbiamo qui dentro aumentato di 1 quindi facciamo txt ore punto text più 1 allo stesso modo quando vorremmo decrementare andremo a copiare questo e sarà esattamente la stessa cosa in corrispondenza di on select e qui dovremo andare a togliere semplicemente 1 in corrispondenza di questo elemento vogliamo che non si possa scendere sotto lo 0 perché se noi andiamo qui adesso e clicchiamo su questo elemento anzi qui manca un elemento perché in corrispondenza di questo non gli abbiamo detto che il suo default deve essere var inc quindi richiamando la nostra variabile var inc vediamo che qui è meno 1 ma non vogliamo dare la possibilità di poter arrivare a meno 1 quindi per fare in modo che l'utente non possa selezionare fino a meno 1 possiamo andare in corrispondenza di questo controllo e proprietà visible dire qui che il valore di questo elemento che deve condurre alla visualizzazione di questa icona questa icona può essere visibile solo se ed esclusivamente il valore è maggiore di 1 andiamo qui ad inserire textore punto text maggiore di 1 qui vediamo che abbiamo un errore perché la conversione non viene fatta implicitamente qui è un testo quello che faremo qui è che utilizzeremo value quindi tutte le volte che prendiamo un elemento dal controllo di testo che vogliamo venga considerato come numero dobbiamo andare ad utilizzare questo value a questo punto chiudiamo e qui siamo a posto se noi andiamo in anteprima e incrementiamo solo quando quindi a 1 scompare vuol dire che possiamo inserire valori solo da 1 perfetto e dobbiamo anche notare il fatto che alt premiamo qui dobbiamo anche notare il fatto che in corrispondenza del visible quello che abbiamo impostato qui non abbiamo impostato un if per avere poi true e false perché questo controllo vuole essenzialmente un valore boolean quindi true oppure false quindi qualsiasi calcolo espressione che noi andiamo ad inserire qui all'interno il cui risultato è vero oppure falso è quello che serve quindi in quei casi non abbiamo più bisogno di andare ad ingombare la nostra formula con if ora possiamo inserire questi potremmo volere avere anche lo zero davanti come qui perché qui se andiamo a selezionare abbiamo zero uno come facciamo ad ottenerlo in questo controllo di testo andiamo qui in corrispondenza del default e qui diciamo che if il valore che abbiamo all'interno di questo elemento quindi if txt ore punto text e qui andiamo a metterlo in value come abbiamo detto prima per trasformare in numero if value txt ore punto text è minore di 9 ok qui mi sono incantato un attimo su quello che va inserito per poter gestire correttamente questo elemento dobbiamo andare a richiamare la lunghezza dell'elemento che abbiamo qui sappiamo che dei numeri da 1 a 9 che sono sostanzialmente 1 se è quel numero andiamo a rappresentarlo con lo 0 davanti quindi qui non proprio incantato diciamo che è una modalità diversa di gestire uno scenario ma il risultato sarebbe sostanzialmente uguale quindi prendiamo prima questo risultato anche se mi sembrava mi fossi incantato su questo quindi questo minore di 10 ok minore di 10 vuol dire che abbiamo bisogno di mettere davanti lo 0 e commerciale è il nostro var inc altrimenti vogliamo la nostra variabile che abbiamo definito var inc qui abbiamo un errore andiamo a vedere dove ce l'abbiamo quindi testo value andiamo a vedere questo value è un numero se è minore di 10 abbiamo questo ok posizioniamoci un attimino sulla formula questa regola crea un riferimento circolare tra le proprietà che non è consentito una proprietà non può fare riferimento a se stessa o ad altre proprietà interessate dal proprio valore a questo punto andiamo qui e inseriamo var inc quindi qui siamo all'interno del controllo textiore per cui si arrabbia che non possiamo utilizzare questo quindi lo togliamo inseriamo qui var inc e a questo punto siamo sostanzialmente a posto perché ci restituisce il nostro risultato l'altra soluzione che avevo in corrispondenza di questo elemento che possiamo andare qui a commentare ok era questo quindi rispetto a uno scenario possiamo avere diverse soluzioni la prima che mi era venuto in mente era di utilizzare l'en che la lunghezza ottieni la lunghezza di questo elemento se è uguale a uno a quel punto vai a antepore questo zero altrimenti la metti dentro come già è quindi queste sono le due possibilità alternative che abbiamo di rappresentare la stessa cosa ora se noi andiamo qui e andiamo sopra scendiamo abbiamo il nostro controllo che si comporta correttamente proviamo ad inserire ad esempio 20 se noi andiamo poi sopra vediamo che sale a 21 22 arriviamo a 24 qui siamo a 27 ma se vogliamo considerare questo come delle ore non vogliamo poter andare sopra 24 e quindi qui dobbiamo andare a reimpostare le nostre variabili quindi dobbiamo andare in corrispondenza della nostra onselect di questo elemento e in corrispondenza di onselect andremo a modificare questo elemento e quindi qui metteremo una condizione e diremo che if tabulazione txt ore punto txt text che metteremo tra value ok chiudiamo value inseriamo qui dentro che metteremo tra value se questo è maggiore di 24 o meglio uguale a 24 quindi se poi di tanto in tanto andremo a fare comunque i test per vedere se regge altrimenti andiamo a correggere quindi se è uguale a 24 cosa facciamo lo impostiamo la variabile che stiamo impostando qui a 1 altrimenti la mettiamo in questo modo e qui chiudiamo la nostra definizione di variabile andiamo a provare resettiamo qui ok il nostro reset qui non funziona perché non funziona perché abbiamo qui reset reset txt ore ma in corrispondenza di questo reset txt ore dobbiamo resettare anche la nostra variabile per resettare la nostra variabile inseriamo set var inc e qui diamo l'orario di default che può essere 1 e qui chiudiamo punto virgola punto virgola per separare dal nostro reset ora alt testiamo e vediamo che ha resettato a 1 andiamo ora a testare mettiamo qui a 23 saliamo e dopo 24 siamo a 0 1 quindi non ci permette di andare oltre 24 per le nostre ore ora inseriamo ad esempio 24 e saliamo vediamo che qui non non ci permette più di salire una volta che abbiamo inserito 24 e questo potrebbe essere un problema e ci fa risalire solo se torniamo indietro quindi questo è un piccolo limite di questa impostazione come facciamo a risolverla ritorniamo in modalità di sviluppo e andiamo in corrispondenza di questo on select e dopo aver ricercato un po' di tempo ho visto che per andare a risolvere questa situazione bisognava andare in corrispondenza di questo elemento e mettere un reset txt ore quindi resettiamo questo controllo vediamo se funziona andiamo in corrispondenza di questo elemento controllo inseriamo 23 ok reinseriamo 24 e a questo punto viene aggiornato correttamente poi il resto si tratta semplicemente di andare all'interno delle nostre espressioni di salvataggio in questo caso se utilizziamo la patch di fare riferimento al valore di questi elementi di poter scrivere all'interno dei campi di orario spero questo video ti sia stato utile se lo è stato un pollice in su registrati al canale Macraris e se vorrai dei contenuti più curati potrai andare sulla nostra piattaforma macraris.thinkfic.com dove abbiamo attualmente le lezioni curate su Power Apps e Power Automate per digitalizzare i tuoi processi di lavoro a presto e grazie ancora